Musica Buonasera, ben ritrovati ad un nuovo spazio dedicato all'informazione dal Veneto. I carabinieri di Padova in poche ore hanno risolto il giallo attorno al delitto avvenuto ieri sera a Piombino Dese in provincia di Padova. Lungo una strada in una zona insolita era parcheggiata un'auto, dentro vi era il corpo senza vita di Ezio Sankovic, 62 anni, di Rubano, agente di commercio della Moncler che ha sede a Trebaseleghe. La vittima molto probabilmente stava tornando a casa dal lavoro quando ha incontrato il suo killer, un uomo che lo ha affreddato con tre colpi di pistola. Nel pomeriggio ha confessato il delitto Renato Rossi, 68 anni di Martellago della provincia di Venezia. All'origine del gesto vi sarebbe un debito non pagato all'agente di commercio. I due si conoscevano pare da tempo, intrattenevano rapporti di lavoro. Rossi è crollato davanti ai carabinieri che lo stavano interrogando da ore. La vittima, gran lavoratore e padre di famiglia, non aveva ombre nella sua vita, dunque una questione economica all'origine di questo tragico gesto. Renato Rossi e la sua vittima, Ezio Sankovic, dovevano discutere sulla chiusura economica, ma la situazione si è trasformata in una tragedia. L'uomo che ha confessato è accusato di omicidio volontario. È stato portato all'interno del carcere Due Palazzi in attesa della convalida dell'arresto. E dunque adesso cambiamo argomento, ci occupiamo di un fatto importantissimo per la sanità veneta, giornata storica per il territorio. Finalmente è stato dato il via libera al nuovo ospedale che sorgerà a Padova Est, il servizio. Il nuovo ospedale della città Ugania si farà a Padova Est. L'annuncio è stato dato con soddisfazione dal presidente della regione del Veneto, Luca Zaia, al termine dei lavori del tavolo istituzionale specifico. L'idea di Padova Ovest come sede della struttura è definitivamente tramontata. Il fatto sarà formalizzato con una nuova delibera regionale che ribadirà la non pubblica utilità già dichiarata il 14 ottobre 2014. Entro dieci giorni dovrà essere adottata una linea giuridica rispetto ai rapporti con i privati che furono interessati a Padova Ovest. Dunque oggi è una giornata storica per il Veneto che procederà spedito per la realizzazione del nuovo polo ospedaliero. Oggi è una data storica per la sanità di tutto il Veneto e per la salute di tutti i Veneti ma anche degli italiani e degli europei. Tutte le istituzioni interessate al termine di un lavoro proficuo per cui ringrazio davvero tutti, ha detto il presidente della regione. Tutti hanno dato il via libera alla realizzazione del nuovo ospedale di Padova nell'area di Padova Est San Lazzaro. Da oggi si può cominciare a scrivere anche il nuovo accordo di programma, conclude Zaia, che darà al Veneto un policlinico universitario di livello internazionale. Soddisfatto il sindaco della città di Padova che al termine dell'incontro ha detto alla stampa oggi ha prevalso il senso di responsabilità da parte di tutti i soggetti coinvolti nel comitato di coordinamento per la realizzazione del nuovo polo della salute di Padova. Le valutazioni dei tecnici sono state assunte e condivise da tutte le parti. L'area di Padova Est, precisa il sindaco, non evidenzia criticità ed è immediatamente disponibile. Ora dice andiamo avanti insieme regione, comune, azienda, università e provincia. I veneti e soprattutto i padovani hanno atteso troppi anni un'opera che ora possiamo finalmente realizzare. Un traffico illecito di alimenti dell'Unione Europea acquistati con contributi comunitari per essere distribuiti gratuitamente a scopo assistenziale invece rivenduti è stato scoperto dai carabinieri del NAS che stanno eseguendo in varie regioni 12 ordinanze di custodia cautelare e 50 perquisizioni coinvolto anche il territorio veneto. Secondo quanto riferito dal comando provinciale di Milano, i destinatari delle misure sono accusati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla truffa. Secondo l'accusa avrebbero distratto 13.000 tonnellate di prodotti ortofrutticoli destinati a titolo gratuito ad attività socioassistenziali con un illecito guadagno stimato in circa 4 milioni di euro. E adesso novità sul processo Mose. Sentiamo cosa ha emerso nel nuovo procedimento. Tre anni e mezzo di carcere per Marco Milanese, ex consigliere politico ed ex deputato PDL, sono stati chiesti dal PM di Milano Roberto Pellicano al processo sul caso Mose. Il pubblico ministero, rivolgendosi ai giudici della quarta sezione penale del Tribunale, ha chiesto in subordine una condanna a due anni e mezzo di carcere, qualora il collegio dovesse, in linea con la Cassazione, derubricare il reato contestato a Milanese da corruzione a traffico di influenze. Nella sua requisitoria, rappresentante della pubblica accusa, valorizzando gli interrogatori di Giovanni Mazzacurati, presidente del Consorzio Venezia Nuova e Pier Giorgio Baita, ex numero uno della Mantovani, già imputati a Venezia, ha spiegato che Milanese fu comprato con 500 mila euro affinché il Consorzio Venezia Nuova avesse un uomo per introdurre al ministero la necessità del consorzio e le facesse valere. A Mazzacurati non interessava tanto l'esito della delibera del CIP, ma avere qualcuno all'interno dell'istituzione pubblica. Ieri sera a Marghera, gli agenti di una volante in servizio sul territorio insieme ad un'infermiera dell'ospedale dell'Angelo che stava casualmente transitando proprio in quel punto, hanno salvato un giovane nigeriano in arresto cardiaco. Il ragazzo, 19 anni, era caduto a terra privo di sensi. Improvvisamente con un dolore al petto era crollato ed era andato, come avete sentito, in arresto cardiaco. I poliziotti e l'infermiera hanno allertato il 118, ma nello stesso momento hanno anche iniziato a praticare le manovre di rianimazione. Il giovane è stato salvato e poi è stato trasportato all'ospedale dove i medici si sono presi cura di lui. Si è poi appreso che il ragazzo è rimasto vittima di una forte crisi epilettica e che ora è fuori pericolo. Non sono ancora rientrati in Italia i due genitori di Moriago della Battaglia, rimasti coinvolti nel tragico incidente ai Caraibi, incidente nel quale ha perso la vita il loro bambino piccolo di 16 mesi. L'incidente è avvenuto la settimana scorsa, ma le procedure burocratiche nell'isola di Dominica sono piuttosto lente e i parenti che li stanno aspettando si augurano che arrivino presto a casa. Un dolore atroce anche pensare che questa mamma e questo papà sono soli, sono lontani e stanno affrontando uno dei dolori più terribili della vita. Il volo con la salma del Piccino arriverà forse giovedì a Malpensa, ma al momento non è confermato. Veneto, due incendi nella notte, nessun ferito fortunatamente, ma sono state ore di lavoro incessante per i vigili del fuoco. I roghi hanno coinvolto due abitazioni, una a Venezia e una in provincia di Verona. Il servizio. Due incendi in Veneto la scorsa notte hanno coinvolto in due città diverse due abitazioni, dove erano in corso lavori di ristrutturazioni. Un caso è avvenuto a Venezia, le fiamme sono divampate in un'area dove erano in corso lavori. Sono state spente dal pronto intervento dei vigili del fuoco a corsi con uomini e mezzi, anche da mestre. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per le persone. L'altro incendio è scoppiato sul tetto di una casa in ristrutturazione a Castelnuovo del Garda. I pompieri di Bardolino, coadiuvati dai colleghi di Verona, intervenuti con 13 operatori e 4 automezzi, tra cui un'autoscala, sono riusciti a circoscrivere l'incendio, evitando l'estensione all'intera costruzione di tre piani. L'operazione di spegnimento di tutti i focolai e la messa in sicurezza del cantiere sono terminate poco prima dell'alba. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. L'assessore all'ambiente della Regione Veneto oggi ha parlato di smog e delle nuove misure adottate dal Governo. Per l'assessore Veneto non servono a nulla quelle misure definite a spot, quelle veloci e sporadiche, come il blocco del mezzo, ma sono necessarie misure a medio e lungo termine. E per attivare queste misure, che prevedono varie manovre, servono misure strutturali e finanziamenti importanti. Come Veneto sono stati chiesti 500 milioni di euro. Un blackout informatico ha interessato oggi il gruppo delle ferrovie dello Stato con ripercussioni sul sistema della circolazione. Mentre le ferrovie hanno fatto sapere che il problema non è riconducibile a loro, ma ad un'azienda esterna, i convogli hanno comunque subito dei ritardi con nuovi disagi per i viaggiatori. Il blocco ha provocato l'interruzione momentanea sulla fornitura agli equipaggi dei treni della modulistica di viaggio con tutte le indispensabili prescrizioni e informazioni tecniche necessarie, che di solito si utilizzano per via telematica. Si è proceduto dunque con la consegna manuale, che inevitabilmente ha allungato tutti i tempi. Parliamo ancora di sanità. Ci spostiamo sul territorio dell'Ulss 15. Vediamo nel servizio la squadra dei direttori dell'Alta, nominata in maniera veloce e nei tempi che erano stati preannunciati. Il commissario dell'Ulss 15, Alta Padovana, Claudio Dario, ha nominato la nuova direzione strategica. Stefano Formentini è il nuovo direttore sanitario. Maurizio Zanon è il nuovo direttore amministrativo. Gianfranco Pozzobon rimane il direttore dei servizi sociali. Il direttore generale ha quindi inteso rispettare i tempi che si era prefissato per consentire all'Ulss 15 di avere continuità nell'assetto organizzativo, provvedendo alle nomine nei primi giorni di febbraio. Stefano Formentini è l'attuale direttore medico del presidio ospedaliero di Cittadella. Maurizio Zanon, invece, dopo aver ricoperto il ruolo di direttore amministrativo dell'Ulss 16, torna all'Ulss 15, dove ha già svolto il ruolo di dirigente nel Dipartimento Risorse Umane. Gianfranco Pozzobon continuerà a svolgere le sue funzioni di direttore dei servizi sociali essendo in carica fino al prossimo 29 febbraio. Il direttore generale, come aveva anticipato al suo insediamento, ha mantenuto la parola creando in tempi rapidi la nuova squadra al fine di dare continuità alla gestione dell'azienda. Dalle 14 di domani, mercoledì 3 febbraio, alle 10 di venerdì 5 febbraio su tutta la Regione Veneto è previsto forte vento. Inizialmente questo vento sarà presente in montagna, poi dalla serata di domani arriverà in pianura, a comunicarlo il centro funzionale decentrato della Regione Veneto che ha dichiarato lo stato di attenzione da riconfigurare a livello locale in stato di preallarme o allarme a seconda dell'intensità dei fenomeni. Il cielo per domani è previsto per lo più nuvoloso, anche molto nuvoloso nelle ore centrali della giornata. Dal pomeriggio saranno comunque probabili schiarite sparse. Siamo arrivati alla conclusione di questo spazio dedicato all'informazione. Subito dopo la nostra sigla, l'appuntamento con obiettivo città. Un filo diretto con gli amministratori della città di Padova. Questa sera ospite dell'appuntamento è il vice sindaco di Padova, Eleonora Mosco. Grazie per la vostra attenzione e buona serata. Obiettivo città. Oggi parliamo di un argomento molto importante. Ci troviamo nella sala giunta di Palazzo Moroni a Padova. Parliamo di formazione e lavoro, ma parliamo anche di grandi appuntamenti per la città di Padova. Quindi a disposizione di tutti voi cittadini. Lo facciamo con un volto femminile che amministra questa città, il vice sindaco Eleonora Mosco. Bentrovati a tutti. Oggi siamo qui a presentare un importante progetto rivolto ai giovani di Padova. Un progetto davvero di cui sono orgogliosa perché si tratta di una nuova iniziativa realizzata con Confindustria Padova e con l'Associazione Amici dell'Università di Padova. L'obiettivo oggi con questa iniziativa è quello di riuscire a colmare quel gap che c'è tra il mondo della formazione, il mondo della scuola dei nostri giovani e il mondo del lavoro. L'obiettivo è quello di andare sempre di più a cercare di incidere con un taglio della disoccupazione giovanile che sappiamo oggi in Italia essere tra i maggiori in tutta Europa. Allora, il mio passaporto verso le imprese. Questo è il titolo di questa importante iniziativa che dà la possibilità a 600 giovani padovani di poter entrare in più di 60 aziende del nostro territorio. Si contempera così l'esigenza dei giovani che hanno il diritto e il dovere di costruirsi il proprio futuro, di formarsi e credo che l'esperienza pratica nelle aziende possa essere la forma più bella, più concreta di orientamento, con l'esigenza degli imprenditori che oggi più che mai hanno necessità di ritrovare delle figure professionali che fanno difficoltare e perire nella nostra comunità tra neodiplomati e neolaureati. E quindi ecco che 600 ragazzi di Padua saranno dotati di passaporti dove verranno indicati i propri dati personali e le proprie impressioni, i propri profili e potranno entrare in più di 60 aziende nel nostro territorio che quindi formeranno le capacità di questi ragazzi. Un importante progetto perché sappiamo quanto oggi l'educazione e la competenza possa essere il miglior futuro per i nostri giovani. Ma non solo giovani, l'attenzione di questa amministrazione e tra i miei assessorati c'è anche il commercio, il rilancio, lo sviluppo della nostra città passa sicuramente da un sostegno e da una valorizzazione delle nostre attività commerciali e questo passa anche attraverso la realizzazione di importanti manifestazioni. Dopo il successo del Natale a Padova 2015 si continua in questo senso con il Carnevale a Padova. Mancano pochi giorni, dal 1 febbraio al 9 febbraio, il centro città ma non solo si riempirà di iniziative di entusiasmo, di davvero luci e colori e con grandi novità. Domenica 7 sarà la serata principale che vedrà tornare a Padova dopo tanti anni i carri allegorici. Una sfilata che arricchirà le vie del centro città passando tra il Liston, Corso Milano e Borgo Altinate per poi confluire attraverso anche momenti di musica di tanti figuranti di confluire in Prato della Valle dove i carri più piccoli con i carri grandi sfileranno tutto il pomeriggio per donare un sorriso a tutti i bambini e a tutte le loro famiglie. Ma non solo cari allegorici, penso alle tante iniziative dedicate ai più piccoli o al Gran Ballo in Piazza dei Signori e poi anche per tutti gli innamorati il weekend di San Valentino saprà donare momenti anche un po' romantici per tutti i nostri cittadini e non solo. Anche la facciata di diversi palazzi monumentali della nostra città si vestiranno di luci carnevalesche e poi anche con i cuori per i periodi di San Valentino. Insomma davvero un weekend importante, un periodo importante per tutti i giovani, per tutte le famiglie e quindi a Corrette Padova vi aspetta. Insomma un anno e mezzo è trascorso, tante sono iniziative che stiamo mettendo in campo anche con tutte le associazioni di categoria, con i commercianti. un anno e mezzo di sfide importanti e soprattutto di gratificazioni, un anno e mezzo di lavoro frutto di impegno, passione e dedizione che sta ottenendo davvero i migliori risultati che si potessero auspicare mettendo al centro l'interesse esclusivo dei cittadini della nostra amata e meravigliosa città.